Siete pronti a giocare al gioco della bottiglia? Oh, non vedo l'ora! Vai, gira la bottiglia, Ninna! Ok! Sono uscito io! Wow! Un biglietto, chissà che cosa ci sarà scritto! Non farti prendere dalla guardia del parco giochi! Del parco giochi! Eccoli! Catturiamoli! Dove sono? Vieni, Giulie! Andiamo! E che ne so? Di là, di là, di là! Lì, vai! Dove vai? Giulie! Non riesco a stare in piedi! Ma come fai? Fai con me bene! Guarda! Giulie! Sì? E mi sono incastrato! Ma come ti sei incastrato? Come faccio a tirarti fuori? No! No! Ho mangiato troppo, Giulie! Te l'avevo detto! Basta con i dolci! Non ci riesco! Poi non verremo mai trovati! Hai ragione, ho un nascondiglio perfetto! Devo cercare un nascondiglio! Ciao, Ninna! Ciao, Ninna! Ma perché Matti non si è nascosto con me? Adesso ti prendo! Ok, ho deciso! Questo sarà il mio nascondiglio! I poliziotti non mi troveranno! Dove vi siete nascosti? Ma eccomi qua! Adesso venite con me, venite, dai! D'accordo, veniamo con te! Andiamo! Adesso sarete rinchiusi per un turno dentro la prigione! Beh, molto bene, direi! Dai, almeno è spaziosa! Scusate, signor poliziotti, ma non potevate prendere solo Matti? Adesso tocca a me girare la bottiglia! No! È buono o cattivo che sono uscito io, ragazzi? Secondo me non è buono, Robby! Comunque, pesca! Ma questo aggeggio fa un rumore strano, sentite? Però è uscito un biglietto! È una verità! Si sei mai fatto la pipì addosso? No! Chi si è mai fatto la pipì addosso? Assolutamente no! Non è mai successo! Robby! Eh? Devi assolutamente dire la verità! Si capiva che stavo dicendo una bugia? Ma sì, perché una volta nella vita tutti hanno fatto la pipì addosso! Sì, ma a me è successo proprio qualche giorno fa! Ero sul trampolino, stavo saltando e mi stavo divertendo tantissimo! Stavo facendo dei trick super assurdi quando a un certo punto sono dovuto uscire! Sono saltato giù dalle scale! E niente! Non ce l'ho fatta! Oh oh! Mi sono fatto la pipì addosso! Che schifo! Va bene, va bene! Non ti preoccupare! Ricapiterà! Come ricapiterà? Giro! Matti! No, forse ho cittadani! No, no, no! Sono uscito io! Vediamo un po'! Speriamo bene! Non difficile o come obbligo! Dipingi una persona a piacere! Ecco! Propriamente doveva uscire questa! Allora, prendiamo questo! È un po' storto, vero? Sì! E facciamo la faccia! Oh, non sono molto bravo in realtà! Facciamo gli occhi, il naso, la bocca! E adesso passiamo ai capelli! Ecco qui! Aspetta! Nina! Non è il colore dei miei capelli quello? Assolutamente no! No, 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 no! Scusa! Non so se hai visto i miei capelli, sono biondi! Sì, ma infatti non sto facendo i tuoi! Nina, i miei sono marroni! Ehi Dani! Guarda i capelli di Dani! I capelli di Castagli neanche Giori! No, no, ma quello è Dani! Si vede dagli occhi verdi proprio come Dani! Ma vero! Ehi, ma io non sono così brutta! Sì, c'è proprio un'idea! Sì, c'è proprio un'idea! Non c'è proprio un'idea! Non c'è proprio un'idea! Non c'è proprio un'idea! Ho un'idea! Continuiamo a giocare con la bottiglia! Andiamo! Sì, forse è meglio! Questo lo prendo io! Ehi, ma dove state andando? Non avevo ancora finito! Posso anche passare questo turno? Sì, sì, non ho bisogno! Assolutamente no! Pesca! Trova il regalo segreto nella piscina di palline! Regalo segreto? Questa sì che non è una penitenza! Vado! Chissà che regalo troverò! Ok, non doveva finire così! Vediamo un po'! Qua non c'è niente! Niente! Mi sa che ho trovato qualcosa qui! È il nuovissimo album di figurine di Nina e Matti! Ok, falsacchiotti! Io l'ho trovato nella piscina di palline, ma voi lo trovate in edicola! Mi raccomando, completatelo tutto! C'ero io la bottiglia! Via! Sei uscita proprio tu! Tocca a te, Giulia! E va bene! Speriamo che il bigliettino sia dalla mia parte! Chissà che cosa c'è scritto! Se vieni colpito dall'erf, dai un bacio a Bowser! Principessa Linda! Ti sto per colpire! Aiuto, aiuto! Comunque, falsacchiotti, ci vediamo da Felicilanti a Roma! per divertirci e giocare insieme! È troppo bello! Sì, ma ora scappa! Oh no! Nina, adesso dovrei dare un bacio a Bowser! Cosa ti interessa? Tanto tu ormai sei innamorato di Dani! Ma cosa? No! Mia principessa! Vieni qua! Che schifo! Tocca a me, tocca a me, tocca a me! Giulia! No! Sì? Ma perché è proprio io? Tocca a te, tocca a te! E va bene! Chissà che cosa sarà! Non lo so! Tasta! Non vedo l'ora di scoprirlo! Hai mai spiato qualcuno? Eh? Hai mai spiato qualcuno? Sentiamo! Ma, ma, non mi è mai capitato in realtà! Dai, di la verità! No, ti crediamo! Oh, e va bene! In verità è capitato proprio poco fa! Sì, la pasta di qualcuno è buonissima! Sì, ma te! E mi trovavo sul playground a giocare! E ad un certo punto, sotto di me, ho visto Dani e Matti che parlavano! Ti scusa, non ho capito bene! Ma, Dani e Matti che parlavano! Forse hai visto male, Giulia! No, 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 no! Erano proprio loro! Da solo! Vabbè, ma magari ci siamo incrociati! Non stavamo parlando! No, no, no! Vi ho visto io! Erano Dani e Matti! Sono proprio sicurissima! Sì, ma parlavamo di cosa mangiare a pranzo oggi! Se mangiare la pasta di conno, i calamari! Vabbè, continuiamo! Continuiamo, va! Ora tocca a me girare la bottiglia! Dani? Sei uscita tu! Sì! Vabbè, dai, sono contenta! Vediamo cosa mi uscirà! Eccolo qui! L'ho preso! Vediamo cosa c'è scritto! Squid Game Challenge Estremo! Ma cosa vuol dire? Un, due, tre, stella! Andiamo, andiamo, andiamo! Dai, Dani, ce la possiamo fare! Aiutami, come è? Stella! Vi state muovendo? Un, due, tre, stella! Robby! Sei caduto! Arrivo! Sei stato squalificato! Ma sono caduto da fermo! Matti, tu non mi aiutami, così ci aiutiamo io! Ok, perfetto, andiamo insieme, Dani! Un, due, tre, stella! Perché aiuta Dani e non me? Matti, siamo una coppia perfetta! Se rompi la pignata da pignata da vendato, vinci il premio! Finalmente! Matti, vieni! Ecco qui! Che cosa devo fare adesso? Adesso ti girerai! Colpisci più forte che puoi! Io me ne vado, eh! Vado? Vado? Eh, concentra! Ma non ti rompe! Vai, vai, Matti! Più forte! Non mi hanno lasciato nemmeno un pacchetto! Ma si sono dimenticati questo! Il biglietto speciale del nostro spettacolo! Ehi, guardate qui! Ho uno dei cento biglietti che si trovano nei nostri pacchetti di figurine! Questo è mio! Ecco, adesso non ho più nemmeno quello! È l'ultimo turno! Devo girare io la bottiglia e far uscire Danio! Danio! Giulie! Vediamo! Oh oh! Sono uscito io! Ho girato io la bottiglia e sono uscito io! Speriamo che sia un altro premio come a Menni e a Matti! Vediamo! Giocate al Twister! Ok, adesso dovrete sfidarvi a Twister! Siete pronti? Sì! Ok, Giulie! Prima, mano destra su cuore rosso! Eh, ma qual è la mano destra? Eh, questa! Ah, questa! Cuore rosso! Cuore rosso! Eh, Matti! Tu piede sinistro su stella gialla! Ok, piede sinistro su stella gialla! Eh, Dani! Mano sinistra su stella gialla! Giulie! Piede destro su nuvola blu! E adesso, Matti, tu piede destro su quadrifoglio! Quadrifoglio? Sì! Ok! Adesso tocca a Giulie! Eh, l'altra mano alla sinistra su cuore rosso! No! E adesso, Dani, mano destra su stella gialla! Stella gialla? Sì! Eh, ma come faccio? Aiuto! E adesso, Matti, anche tu! Mano destra su stella gialla! Cosa? Aspetta! Ciao, Matti! Ciao! Ehi, 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 ehi! Non mi sembrate un po' troppo vicini! Ehi, ehi, ehi! E tu, andate via! No, eravate così vicini! Ma volevate darvi un bacio per caso? Ma no, era solamente il gioco, Nina! Esatto! Non è stata colpa nostra, è stata colpa sua! Perché un bacio a loro due? Non li hai visti come si guardavano così intensamente? Così? Cosa? Oh, no, Nina, se ne è in questo modo! Sì, sì, vi ho visti! È tutto il giorno che state vicini, vi abbracciate, andate insieme in prigione! E io sono piuttosto che guardo! Bravi, complimenti! Io pensavo fossimo amiche! Ah, sì! Io pensavo fossimo fidanzati! Certo, Nina! Nina! Sai che così, Nico! Ha ragione, è vero! Tenete sempre insieme! Anch'io la seguo, Nina! Matti! Eh, vabbè, continuiamo a giocare allora? No, non voglio più giocare! Ciao! Direi che forse è meglio che io vada! Sì!